Aurelia non è pronto per sapere certe cose. A me però me le dici. Tu non sei come tuo fratello. Aspati io te sto a far crescere per farti niente a capo. Pischello era e pischello sei rimasto. Ma le chiede per me su una panna arcesi. Marchelli Gabriele? Sì, che ti serve? Via fuori. Lo sai che sto io, sì? Secondo me c'è 24 ore di tempo per portarmi gli sordi. Hai capito? Ma non mi va manco di più a ordine. Senti, mi serve una mano, sto nella merda. Chiudiamo le famiglie e se ripiamo la vita nostra. Daglie. Daglie. Però ma non si governa. Al massimo si amministra. Non si fermano davanti a niente. Tutta Roma è zona mia. Attento a far scoppiare la guerra. La perdi. Io voglio ammassare tutti. Che cazzo hai fatto? La sopporra. Questo posto non cambia da duemilano. che cazzo hai fatto? La perdi. Oh ragazzi, il catalogo Netflix è infinito. A volte si perde una serata intera per scegliere il film da vedere. Per risparmiarvi questa fatica, la redazione di cinematografia Film is Now ha stilato la classifica di 6 film Netflix da non perdere per nessuna ragione. Ecco la lista aggiornata dei titoli più interessanti attualmente a disposizione degli utenti. Okja, il dramma d'azione diretto da Bong Joon, con un cast strepitoso, Tilda Swinton, Jay Gillanall, Lily Conlins, Giancarlo Esposito e Paul Dano. Rebirth, thriller psicologico diretto da Carla Muellar, con protagonisti Fran Krantz, quella casa nel bosco, e Adam Goldberg, salvato il soldato Ryan. Il thriller fantascientifico Ark, diretto da Tony Elliot, con Robbie Amell, The Flash e Rachel Taylor, già viste in Marvel's Jessica Jones. La battaglia di Jadotville, Jamie Dornan è il protagonista di questo war movie, diretto da regista esordiente Richie Smith, che adatta il libro, reso conto di eventi realmente accaduti, The Siege of Jadotville, The Irish Army's Forgotten Battle. Barry, il biopic che racconta la storia del giovane Barack Obama. E Fino all'osso, con Lily Collins e Keanu Reeves, che tratta in equilibrio tra dramma e commedia il tema molto serio e delicato dell'anoressia. Per avere più dettagli su questi film, cliccate il link nella descrizione del video. Per oggi è tutto, ricordatevi di iscrivervi al nostro canale e di attivare le notifiche. Ci potete seguire anche su Facebook e Instagram, trovate il link qui sotto. Io vi aspetto prestissimo al prossimo video. Ciao da Valeria.